Mamma mia, dopo le emozioni che ci ha regalato quest'oggi a pranzo, oggi anche la Juve perde clamorosamente contro il Monza di Berlusconi che evidentemente la voglia del Pullman di Troia è più grande della voglia di recuperare la classifica, evidentemente perché tanto sappiamo già com'è la storia però mamma mia che giocano, poi ci dicevano, ma avete vita a culo con la Cremonese perché siete degli scarsoni di merda, vedi poi ci sono quelli che perdono 5 per la Sassuola, ci sono quelli che perdono con il Monza cioè che hanno perso due partite su due con il Monza, cioè precisiamo questo, precisiamo questo, due partite su due con il Monza, vorrei precisare cioè rendiamoci conto a che livelli siamo, a che livelli siamo, loro pensano di sfottere noi ma in realtà poi sono i primi a perdere cioè perché tanto è sempre così, mamma mamma mia che goduria, mamma mamma mia che goduria davvero è tornato finalmente il circo Juve, cosa che non si vedeva da tempo, da molto, da molto tempo mamma mia, mamma mia, saluto qua perché comunque anche sono fuori, però vabbè, io vi saluto qua perché comunque non c'è tanto tempo però mamma mia, mamma mia che goduria, mamma mia che goduria